Cari amici, pace e bene. Devo prima di tutto scusarmi con voi e con quanti la settimana scorsa hanno tentato inutilmente di collegarsi con la nostra tv. Purtroppo a nostra insaputa è successo che il servizio di streaming è stato interrotto a motivo di una inadempienza burocratica. Con una decina di giorni e dopo tanti inutili tentativi il servizio è stato ripristinato. Il mese appena trascorso è stato per me carico di dolore per la morte di mio fratello padre Stefano che tanti di voi hanno conosciuto e apprezzato. Vi ringrazio per la vicinanza e la partecipazione al mio dolore. Cari amici, devo confessarvi però che una pena più grande ho provato alla lettura di una lettera in Facebook scritta, si legge, da un fedele della chiesa di Cagliari. Una lettera colma di amarezza che prende di mira il vescovo della diocesi che a suo avviso avrebbe imposto la sua legge personale all'intera comunità senza tener conto di nessuno e senza ascoltare nulla. Cosa ha fatto il vescovo? Ha semplicemente ritirato l'incarico di esorcisti a due sacerdoti operanti in diocesi. Questo rientra nei poteri del vescovo. È lui che nomina gli esorcisti oppure ritira loro il mandato. L'ha fatto per capriccio senza consultare nessuno? Affermarlo senza averne le prove è una cattiveria che è doppiamente grave trattandosi del pastore che merita da parte nostra tutta la stima e il rispetto. Quando il vescovo prende una decisione lo fa a ragion veduta e dopo essersi consultato con i consultori e con il consiglio presbiterale. Nessuno ha diritto di imporre al vescovo la sua opinione. Sarebbe un ingerirsi in cose che non sono di nostra competenza. Dispiace inoltre leggere certi giudizi sull'uno o sull'altro esorcista indicandone nomi e cognomi denigrandoli così davanti a tutti. Questo è un peccato che grida vendetta al cospetto di dio. Nessuno ha il diritto di giudicare suo fratello perché solo dio conosce ciò che c'è nel cuore dell'uomo. Ciascuno di noi fino a prova contraria ha diritto alla buona fama. Sia chiaro poi che ogni esorcista ha il suo carattere, il suo stile, la sua preparazione e il suo metodo di valutazione dei singoli casi che gli si presentano. Denigrare l'uno per esaltare l'altro non è un modo evangelico di agire. Ricordiamoci che il comandamento nuovo di Gesù è proprio quello della carità. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Prima ancora di essere esorcisti siamo tutti figli di dio e quindi meritevoli della stima dei fratelli. La lettera in questione mostra che in tanti interventi, e ce ne sono molti purtroppo in internet, sono privi di quel sensus ecclesie che ogni fedele discepolo di Gesù dovrebbe possedere. Ci dispiace per chi l'ha scritta e per chi l'ha condivisa. È un'altra ferita alla Chiesa sposa di Cristo. Frutto anch'essa del diavolo? Pace e bene a tutti.